Grazie a tutti Tempo perfetto Punico Andalizzi sono Giampiero Ingrassia Giulio Ottonello Valentina Gullace Mauro Simone Fabrizio Corucci Eccoli qui Punico Andalizzi Bravissima Anzi chiamiamo anche tutti i tuoi compagni Venite ancora fuori Dai Un applauso Se siete troppo bravi Veramente Ecco qui la compagnia di Frankenstein Junior Ingrassia e compagni Grazie a tutti